Siamo con il sindaco di Rocca d'Aspide, Girola Mauricchio, per l'iniziativa arriva Babbo Natale. Sindaco, il comune di Rocca d'Aspide ha ancora una volta coinvolto le scuole, questa volta per un'iniziativa natalizia. Sì, siamo già al terzo anno di questa manifestazione. È doveroso, specialmente in questo momento di crisi generale, tenere uniti i bambini e dare dei doni a tutti. Quindi è una manifestazione doverosa da parte nostra, anche perché quando riguarda la scuola, diciamo dopo l'ospedale, subito dopo, è al primo posto nei nostri programmi. Quindi noi faremo di tutto, stiamo facendo di tutto per migliorare gli ambienti scolastici, anche perché abbiamo la fortuna di avere dei dirigenti scolastici molto impegnati, molto bravi, che diciamo che è una delle scuole, le nostre, che sono all'avanguardia. Siamo con l'assessore alla pubblica istruzione, Paolo Antico, per l'iniziativa arriva Babbo Natale. Come si è sviluppata l'organizzazione di questo evento? Sì, si tratta della terza edizione dell'arriva Babbo Natale a Rocca d'Aspide, che viene svolta nella settimana che precede il Natale. Si tratta di una manifestazione improntata alla gioia dei bimbi, tant'è vero che abbiamo invitato l'intera scuola rischia della città di Rocca d'Aspide, quindi scuola primaria, scuola dell'infanzia e scuola media. Verranno tutti quanti raccolti, tutti questi bimbi, sarà una festa, verranno raccolti in piazza 20 settembre e dopo degli spettacoli con dei Babbo Natale faremo a loro dei doni, in parte anche donatici dalla ditta Nappi Sud, che c'è sempre vicina per quanto riguarda la raccolta differenziata e si tratta di doni improntati alla tutela e al rispetto dell'ambiente. Loro, questo lo possiamo dire con certezza, sono così bravi nell'insegnare a quelli più grandi e quindi anche a noi cosa significa il valore dell'ambiente, tanto è vero che sono all'avanguardia nella raccolta differenziata e noi quindi vogliamo premiarli attraverso questi doni in questa splendida cornice, abbiamo qui un giardino incantato in questa giornata bellissima, vogliamo dare loro un'ulteriore gioia con un omaggio, augurando a questi bimbi, che poi sono i nostri bimbi, un buon Natale, un felice anno nuovo. Siamo con i coniugi Nappi, titolari della ditta Nappi Sud, che hanno sostenuto l'iniziativa tenutasi a Rocca d'Aspide e a Riva Babbo Natale. Come è nata l'idea di sostenere il comune di Rocca d'Aspide in questa manifestazione? Diciamo che noi abbiamo una collaborazione da anni con il comune di Rocca d'Aspide, con il sindaco Uricchio, con il quale è nata proprio una grande stima. Ci fa piacere partecipare a queste iniziative perché regaliamo sorrisi ai bambini in questo momento un po' così di crisi. E devo dire che questa è una comunità dove sono molto virtuosi, sono molto socievoli e il sindaco ne è una testimonianza. Quindi a noi fa piacere tantissimo partecipare a queste iniziative. Grazie a tutti.